Il Salone delle Identità Territoriali è un'occasione unica, la prima senz'altro in Italia, di mettere in mostra, di mettere in vetrina quanto di meglio i territori possano e sappiano esprimere. Eccellenze sotto il profilo enogastronomico, agroalimentare, ma anche eccellenze dal punto di vista paesaggistico, culturale, storico, le tradizioni, ma anche il folklore, insomma tutto quello che un territorio sa mettere in mostra, sa esprimere, produce tutte le sue tradizioni insieme con gli altri attori istituzionali dello stesso territorio. Questa è un'occasione importante per imparare a lavorare insieme, credo che sia un messaggio importante da consegnare al futuro per il bene del nostro territorio Ligure. Grazie a tutti.